Siamo qua con Ivano Bosisio di Generali Willion, che è una divisione di generali veramente molto nuova, non hanno compiuto neanche il primo compleanno e chiediamo direttamente al nostro ospite di che cosa si occupano. Buongiorno. Buongiorno. A Generali Willion si occupa di welfare aziendale in maniera integrata a 360 gradi. Generali in realtà si occupa di welfare da sempre dal punto di vista assicurativo per la parte previdenziale, sanitaria e di assistenza, ma ha voluto con Generali Willion focalizzare gli sforzi e dare una veste nuova e più innovativa anche a come ci occupiamo di welfare aziendale. Sarai uno dei relatori della prossima tavola rotonda, incentrata proprio sul tema del welfare aziendale. Come si è evoluto in questi ultimi anni? Generali in realtà già da tre anni sta monitorando questo mercato e questi trend con il welfare index PMI insieme a tutte le maggiori associazioni e confederazioni di settore. Quindi abbiamo visto un crescente interesse e quello che diremo poi dopo nella tavola rotonda è che vediamo alcuni trend, soprattutto per quanto riguarda le spese sanitarie relative al welfare, che dimostrano una grande crescita e quindi una grossa opportunità anche per le imprese che vogliono occuparsi di questo ambito. Quindi nuove opportunità sia dal lato impresa ma anche dal lato consumatore e quindi anche dal lato lavoratore? Quello di sicuro, quello che stiamo cercando di definire è di far capire alle aziende e poi strutturare delle offerte che facciano ben comprendere il fatto che il welfare è una situazione vincente sia per la compagnia e quindi per l'azienda sia per il lavoratore, perché grazie anche agli interventi dal punto di vista fiscale e tributario il lavoratore riceve più soldi di quanti ne avrebbe ricevuto in busta paga e quindi semplicemente può convertire in servizi tutta una serie di tasse che altrimenti avrebbe versato. Ecco, è un progetto sicuramente molto nuovo perché non avete compiuto neanche un anno, a novembre mi dicevi che Generali Willian. Quali sono i risultati maggiori che puoi individuare in questi ultimi dieci mesi? Soprattutto il fatto di essere riusciti all'interno di Generali a creare questa nuova struttura che è una struttura che vuole lavorare in modo molto più innovativo e molto più veloce. Stiamo stringendo anche una serie di partnership con operatori di settore sanitario o meno perché in questo ambito risulta vincente chi lavora in un approccio di ecosistema e quindi dobbiamo cercare di riuscire ad orchestrare al meglio anche tutta un'altra serie di operatori. Quindi ci stiamo lavorando e speriamo a breve di avere anche i primi risultati tangibili. Intanto è positivo che se ne parli e che ci siano dei confronti come questo di oggi? Questo assolutamente, anche perché sul mercato ci sono tutta una serie di operatori che si occupano di welfare e anche noi come generale abbiamo bisogno di farci conoscere, soprattutto come Generali Willian, per spiegare qual è la nostra specificità rispetto agli altri operatori di settore. Grazie, Ivano Bostizio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.